I rincari di gas e benzina tra gli echi della guerra in Ucraina, oltre a mettere in ginocchio famiglie e imprese, stanno mettendo in serie difficoltà anche il trasporto pubblico regionale. A dirlo l'assessore di reparto del Veneto. Proprio oggi ero in contatto con le aziende di trasporto del Veneto, le principali aziende, che mi stanno dicendo che c'è stato un aumento del costo tra elettricità e gasolio, stiamo parlando di un più 120% e già comunque le risorse che loro hanno per l'erogazione del servizio ovviamente è risicata, incrementi di costi di questo tipo rischiano di far saltare il servizio di trasporto pubblico locale. Oggi, come per la pandemia, c'è bisogno di un intervento veloce e tempestivo da parte del Governo. Dice sempre la De Berti che è precisa. Non solo per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, ma ovviamente anche nel settore privato, perché qui le aziende rischiano veramente di chiudere. Rischiamo di vedere autobus e bus fermi anche a fronte di un rincaro dei biglietti. Ma guardate, questo non è preso in considerazione in questo momento, anche perché non è che possiamo andare a pensare di caricare sempre sulle famiglie, comunque sempre sugli utenti. La risposta con le aspicate soluzioni attese dalla Commissione Infrastrutture. Con la conferenza Stato-Regioni sicuramente, insieme a tutti gli altri problemi legati ovviamente alle conseguenze della guerra. Grazie. 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 Grazie.